Sì, ragazzi, prima di iniziare questo video, iscrivetevi a questo canale, Ivan Scattoni Ok, iscrivetevi a questo canale, noi ci vediamo in gioco da poco Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Alexandre, oggi siamo su Sliver e io Un gioco diverso Oggi cerchiamo di diventare più grandi possibili E poi giochiamo anche un pochino a ProStars Ok, questo video non so se lo carico stasera oppure domani mattina Oggi non ho voluto poter Fortnite perché iniziavo il tempo E stavo giocando con un youtuber e stavo facendo server private E poi non so manco come registrare E quindi ho deciso di poter stare per io Un po' eppure un po' ProStars Forza, un 4 Facciamo 8 minuti di video, cioè 4 e 4 8 minuti di video per io, 4 minuti ProStars Guardate se andate l'urda Passate Ok Ok, io sto registrando questo video di sera Forza, qua Quanto godo Che cosa vuol dire? Vuol dire tutto il mio lutto C'è lutto poi quello che è Ehm, troppo forte, vabbè. Ok. questo qua vuole provarci forza forza se c'è coraggio muoviti muoviti dai dai no mi ha fatto un tempo a girare potete giustare adesso vediamo che si dà pubblicità un tempo giusto è finito questo link ne sloia sempre xxlx xxl a posto con il nome del canale facciamo quei file va oh yes comunque questo è il verme che ho fatto io quindi l'ho fatto io vediamo 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 oh oddio c'era uno gigante ne sono giocatore non è vero il rumore sono stati facendo casino 4 4 forza forza per soli ossa gestione sera e oggi no non voglio ammazzare oggi per poco che ci sono c'è si era bancato aspettate aspettate lungo in qua in qua è togliato la strada non ci credo se che pubblicità strane poi fai di nuovo ok se volete altri episodi di sniper io il temerò ok 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 vabbè blablabla oddio ma questo è troppo grande sono decisamente troppo grande ma questo è un piccolissimo questo non mi sembra andato giusto signore mi guarda che sto giocando online quindi devo fare molta attenzione cioè dobbiamo fare molta attenzione guarda come sta circondando perchè io sono più grandi l'ignore no no aveva fatto una brutta fai no ma stavo visitato mi ha dovuto essere io guardando però pochissimo quindi non è troppo un problema ok ok guarda cosa con questo ultimo in game oddio e qua no va bene fa niente non volevo lo corre così tanto e dove lo trovo stai a vedere questa pubblicità questa pubblicità uscitava anche un mese fa eh bella ragazzi adesso ci vediamo su brawl stars ok ragazzi eccomi visto che ho fatto durare di più quel video adesso faccio 2-5 minuti questo c'è brawl stars quindi faccio delle belle battute di solo ok un attimo secondo me voglio metterlo qua possibilmente questo ragazzo sta a vedere stai a vedere per prestare lì che c'è chiederti eh che Sì, c'è il coraggio ed è morto. Appunto, è già in posa, è già in posa tutto. E non c'è il baby. Ok. Aspetta, aspetta. Ok. Facciamo quella cosa, facciamo quella cosa. Ok, vediamo, vediamo. Ok, vediamo. Ok, vediamo. Ok, vediamo. Vediamo. ma facciamo un atto non si è che è un colto però il 5500 è molto buono chissà ragazzi non c'è uno stile non lo scuoto ok si è che lo scuoto vabbè questo è un colto non so cosa tutti colpo possiamo sparare ok dai no 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 oddio che faccio più male sta più male non so cosa 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 non so e non sa più che ve lo sa più lo sa più tantissimo e non so non so non so non so no 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 ok ah no vabbè partito non so non so non so non so non so non so no no Oh Ok, faccio l'altro, faccio un solo, ok, faccio l'accesso, l'ultimo, è stato dura. Stavolta, se tu non arrivai dai primi, non giuro, non arrivai dai primi. No, no, tu non ci andrai prima, tu non ci andrai, eh, me la prossima, no, 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 profittiamo, 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 profittiamo. corri 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 perchè è il primo mai paura uuuh scella scegli scella no molta gente va bene ragazzi spero che questo vi sia piaciuto scegliere mi piace commentate iscriviti al canale iscriviti al canale all'inizio del video noi ci vediamo in un prossimo video ciao